Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura alla cronaca. Potrebbe esserci la criminalità pugliese, secondo gli investigatori, dietro la super rapina messa a segno giovedì sera a Livri di San Buceto. Intanto a Spoltore sono stati trovati un mitra e delle auto abbandonate, presumibilmente utilizzate durante la fuga. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Seguono una pista foggiana gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Secondo le forze dell'ordine, dietro la clamorosa rapina di due giorni fa a Livri di San Giovanni Tiatino, potrebbe esserci la criminalità organizzata pugliese. Questo in base alle modalità del colpo, fanno sapere le autorità. Intanto a Spoltore sono state trovate cinque auto abbandonate, probabilmente utilizzate durante la fuga, e anche un mitra lasciato in un prato. In tutto sono 19 i mezzi attualmente posti sotto sequestro, tra cui la ruspa, utilizzata come ariete, e l'auto e il camion, dati alle fiamme e utilizzati come barricata contro le forze dell'ordine. Una rapina d'altri tempi, degna della trama di un film hollywoodiano, preparata nei minimi dettagli. Giovedì intorno alle 20.30 una banda di una quindicina di persone ha fatto irruzione a Livri, l'Istituto di Vigilanza di Securitalia. Proprio in un momento in cui, secondo quanto trapelato, i soldi portati dagli operatori del Livri dovevano essere riposti nel cavo. I rapinatori sono arrivati e andati via nel giro di cinque minuti, portando con sé una somma tra i 5 e i 6 milioni di euro. Anche il piano più studiato, però, può essere rovinato dall'imprevisto. Per scelta o per necessità, i banditi hanno preso di mira solo la sala conta e non il cavo, dove forse non sono riusciti a entrare per tempo. All'interno della camera blindata avrebbero trovato ben 80 milioni di euro. Se li avessero rubati, sarebbe stato il colpo del secolo. Finora nessuno è stato arrestato. Sul luogo della rapina sono stati ritrovati una ventina di bossoli, a conferma dell'avvenuto scontro a fuoco con i vigilanti, e rinvenuti anche dei triboli, chiodi a tre punte dall'antica tradizione bellica. I triboli, infatti, utilizzati fin dai tempi di Alessandro Magno per fermare gli elefanti di Dario nella battaglia di Gaugamela, oggi fermano le gazzelle della polizia. Bollettino Covid, oggi in Abruzzo, 2.214 nuovi positivi al coronavirus, di cui 1.504 emersi da test antigenico di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, eseguiti 4.211 tamponi molecolari e 11.471 test antigenici, per un tasso di positività pari al 14,11%. I nuovi casi provengono 538 dalla provincia dell'Aquila, 594 da quella di Chieti, 390 da quella di Pescara e 588 da quella di Teramo, 26 da fuori regione, mentre per 69 sono in corso verifiche circa la provenienza. 5 le persone decedute di età compresa tra 65 e 85 anni, una in provincia dell'Aquila, due in provincia di Teramo, una in provincia di Chieti, una risalente ai giorni scorsi. Nell'ultime 24 ore sono 776 i guariti, mentre gli attualmente positivi salgono di 1.424 unità e ora sono 34.294. I ricoverati in area medica sono 275, più 3 rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva sono 14, meno 1 rispetto a ieri. E questa mattina a Pescara sono scesi in strada i commercianti, gli esercenti e i residenti di Viale Marconi che contestano i lavori avviati mesi fa lungo l'importante arteria cittadina e le ordinanze comunali anti-movida. Paolo Renzetti. Una protesta colorata e rumorosa di commercianti e anche residenti per dire no alla nuova Viale Marconi. Questa mattina la protesta organizzata dal comitato Salviamo Via Marconi ha voluto far sentire forte la sua voce con un corteo che partito dall'angolo di Via Pepe ha raggiunto Piazza Italia sotto a Palazzo di Città. Noi rappresentiamo il disagio che si vive quotidianamente su Viale Marconi. Abbiamo provato da settembre un dialogo, un discorso, siamo stati ricevuti ma non ascoltati all'amministrazione pubblica che ha fatto finta di prendere atto delle nostre richieste, ma di fatto le ha disastese tutte e quante. ci rendiamo conto che la situazione è abbastanza complicata per tutti, sia per i residenti, sia per i commercianti, sia per i semplici passanti di questa via che si trovano a convivere con un'opera che non ha niente di umano, niente di verso il civile, verso il consumo quotidiano di uno spazio dedicato al benessere collettivo. Noi abbiamo fatto questa iniziativa per scaricare l'attenzione che si è ammucchiata in questi mesi perché di non essere ascoltati provoca tanta frustrazione e tanti commercianti sono arrivati anche un po' a fare dei gesti come c'è stato l'altra volta che spontaneamente hanno bloccato il traffico. Noi abbiamo preferito riunire questa forza, questa energia e convogliarla verso un corteo strutturato dove si può pacificamente e democraticamente esprimere proprio dissenso verso un'opera che nessuno riesce ad apprezzare. Nonostante l'opera stia procedendo, il comitato spera che ci possano essere quelle modifiche richieste al progetto. Allora, come noi abbiamo avuto esperienza a luglio dell'anno scorso che da tre corsie si è passati a quattro, a lavori quasi ultimati, perché i lavori erano stati fatti, quindi hanno smontato e rifatto da capo il progetto. Quindi tutto ciò che era stato speso fino a tre corsie a luglio è stato abbandonato e è stato demolito e ricostruito a quattro corsie. Così oggi che il cantiere è ancora aperto si possono fare modifiche anche importanti perché il cantiere non è stato riconsegnato, quindi le modifiche si possono ancora fare. Non è vero che i lavori sono ultimati. Quello che è vero è che non c'è stata una concertazione, cioè non c'è stata la sensibilità da parte dell'amministrazione di venire a vedere quali fossero gli interessi reali dei cittadini. Cioè hanno fatto un progetto che sulla carta potrebbe essere anche rappresentato, ma viverlo nel quotidiano è angosciante. E un migliaio di persone oggi a Teramo ha sfilato nella manifestazione organizzata dalle università contro la guerra in Ucraina. Alla testa del corteo uno striscione con su scritto La pace è cultura. Vediamo il servizio. La pace è cultura, questo è lo slogan dall'ampio significato scandito durante la marcia per la pace questa mattina a Teramo. In circa mille si sono dati appuntamento alla villa comunale per ribadire ciò che è scontato per tutti, tranne che per i capi di governo, ovvero che la guerra è un abominio. Dalla parte del paese invaso anche cittadini russi, come questa professoressa giunta in Italia dopo l'inizio del conflitto. A Praga, Londra, Berlino, oggi in tutto il mondo la comunità russa scende in strada in solidarietà al popolo ucraino, dice la docente. Anche a Mosca, dove manifestare è pericoloso, molti russi sono scesi in piazza a supporto degli ucraini. La manifestazione Teramana è stata patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e promossa dagli Atenei abruzzesi, dall'Istituto di Fisica Nucleare, dall'Istituto Zooprofilattico, dai conservatori musicali, da istituzioni e associazioni. Un momento corale importante, la marcia per la pace, la marcia della cultura per la pace. Quindi veramente ringrazio tutte le università abruzzesi, i centri di ricerca, i conservatori per questa partecipazione così massiccia, perché il messaggio è la pace e cultura. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo a questo povero mondo. Anche se oggi noi non fermeremo le bombe che in questo momento stanno scendendo in Ucraina, però vogliamo dare la testimonianza della solidarietà tra i popoli, della battaglia per i diritti umani e soprattutto la pace si costruisce ogni giorno con le azioni individuali, azioni di rispetto, azioni di collaborazione, azioni appunto anche di denuncia e di partecipazione attiva. Cambiamo pagina, dopo il simbolico incatenamento il sindaco di San Giovanni Teatino si è detto soddisfatto del primo incontro avuto insieme ad altri amministratori con il commissario governativo al progetto del raddoppio ferroviario, Stefano Recanati. San Giovanni Teatino, come tutti i comuni, come tutti i colleghi della tratta Roma-Pescara, siamo favorevoli al raddoppio perché bloccare l'economia, bloccare il sviluppo è da incosciente, quindi siamo favorevoli ma un raddoppio che non penalizzi. Soddisfatto il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, dopo l'incontro con Vincenzo Macello, commissario governativo al progetto del raddoppio della ferrovia. Arrivato in Abruzzo insieme a Marco Marchese, direttore investimenti area centro di rete ferroviaria italiana, per verificare personalmente le criticità che entreranno nelle proposte di variante. Presente anche l'ingegnere Ivo Vanzi, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università d'Annunzio di Pescara, che ha presentato il suo lavoro con le possibili modifiche al progetto originario. C'è stato questo confronto, seguirà il confronto con i tecnici, ripeto, del RFI e il dottor Vanzi, per cercare di valutare eventuali modifiche che non danneggi il paese, non danneggi il territorio. Che cosa si è detto dall'altra parte, da RFI? C'è la possibilità di capire, di ascoltare veramente qual è la voce dei sindaci e dei cittadini? Fino a ieri ero alquanto preoccupato, oggi lo sono un po' meno, perché ho trovato due tecnici, due veramente super tecnici, qualificatissimi, che hanno ascoltato sia noi amministratori che alcuni cittadini interessati, purtroppo dall'abbattimento delle case e da altre preoccupazioni. Ho visto in loro la riflessione e questo mi dà forza e speranza che il discorso vada avanti e possa portare dei giusti e buoni risultati. Entro giugno saranno appaltati i lavori di riqualificazione al tessuto urbanistico del comune di Ovindoli. Sono opportunità date dai fondi del PNRR. Ascoltiamo il primo cittadino, Angelo Ciminelli. Mauro Di Pietro. Le prospettive del PNRR per quanto riguarda la località di Ovindoli? Proprio qualche giorno fa in Consiglio Comunale abbiamo approvato progetti per quasi 4 milioni di euro. Nel prossimo mese di aprile abbiamo un ulteriore budget dal fondo complementare che comunque verrà destinato alla località di Ovindoli. Abbiamo approvato questi progetti che riguardano la riqualificazione delle piazze di Ovindoli Capoluogo e delle due frazioni San Potito e Santa Iona. Il nuovo campo da calcio che non sarà solo campo da calcio verrà fatto un centro sportivo con anche strutture complementari campo da paddle e strutture anche ricreative per poi completare il tutto, già approvato questo come dicevo in Consiglio Comunale con alcuni parcheggi e alcune strade quindi per potenziare sia la viabilità che i parcheggi. Con l'ufficio tecnico rispetteremo appieno come abbiamo già rispettato le scadenze noi entro giugno andiamo con gli appalti lavori. E domani ripartirà il primo treno storico del centro Italia che porterà i viaggiatori dall'Abruzzo al Lazio sold out per il primo convoglio appunto quello di domani. Vediamo il servizio. Ripartono i treni storici sulla ferrovia del centro Italia tra Sulmona, L'Aquila e Rieti. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno Pallenium in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato e l'Associazione Le Rotaglie ripropone un itinerario che si snoda tra i binari dell'Italia centrale tra borghi incontaminati e luoghi di grande fascino. Il primo appuntamento è previsto per domani, domenica 27 marzo ed è già sold out. Il calendario completo è consultabile sul sito fondazionefs.it e propone numerose date dal mese di aprile fino al prossimo novembre per 12 viaggi complessivi. Il programma turistico consentirà ai viaggiatori di percorrere a bordo delle storiche vetture degli anni 30 i binari che collegano Abruzzo e Lazio toccando l'Aquila, Sella di Corno, Antrodoco e Rieti. L'arrivo del treno nella città lasiale è previsto alle 11.20. Dalla stazione poi partiranno dei tour dedicati alla scoperta delle bellezze della città reatina. Il treno storico ripartirà da Rieti alle 17.15 con arrivo a Sulmona previsto per le 19.47. Per conoscere le modalità di acquisto dei biglietti e tutte le informazioni relative ai prossimi eventi nel treno storico è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. Inaugurato questa mattina il murales realizzato dall'artista Antonello Maxin via Tripoti nel quartiere Zanni nell'ambito del programma Murap 21-23. Vediamo. Quando l'arte diventa veicolo di promozione sociale di crescita culturale va anche in questo senso l'inaugurazione questa mattina del murale realizzato dall'artista frentano Antonello Max in via Antonio Tripoti nel quartiere Zanni di Pescara nell'ambito del programma Murap 21-23 muri per l'arte pubblica a Pescara. L'iniziativa si fonda sul concept di combinare arte pubblica e riqualificazione urbana allo scopo di perseguire la missione della rigenerazione sociale. Nella circostanza è stato anche inaugurato il giardino oggetto di recupero e destinato alla locale comunità. Allora è nato lo scorso anno quando abbiamo deciso con l'amministrazione comunale e con la fondazione Aria di realizzare un progetto che abbiamo chiamato Murap Festival muri per l'arte pubblica a Pescara e una maniera non solo per migliorare alcune pareti anonime ma è anche quella per risvegliare un senso di appartenenza ai rispettivi quartieri dove le persone vivono. Per cui abbiamo sin dall'inizio pensato che non volevamo fare solo un'operazione di muralismo urbano ma anche un'operazione di riqualificazione urbana perché siamo convinti che attraverso questo format muralismo, arte pubblica e riqualificazione si riesce a fare una vera operazione di rigenerazione sociale. Ne abbiamo cominciato lo scorso anno stiamo già lavorando sulla edizione 2022 e speriamo di fare delle cose ancora più importanti. Questo è stato una sorta di test che ci ha insegnato tante cose. Sono convinto che quest'anno, nel 2022 faremo delle cose con un orizzonte molto più lungo. Lo storico Liccio di Biase ha presentato il suo ultimo lavoro Pescara 1910 unitamente al penultimo libro La piazzaforte di Pescara edito in piena pandemia. Li presento insieme, dice l'autore perché c'è una continuità storica per capire la città di oggi. Vediamo il servizio. La piazzaforte di Pescara e Pescara 1910 sono i nuovi due libri di Liccio di Biase e di che cosa si parla? È un approfondimento particolare sulla dinamica della realizzazione della valorizzazione e poi della fine della piazzaforte di Pescara ed è centrale, così diciamo in questo libro emerge chiaro, è centrale nella vita e nello sviluppo della nostra città. Oggi noi viviamo a Pescara però ci dobbiamo rendere conto che effettivamente la presenza della piazzaforte ha condizionato moltissimo l'assetto odierno della città di Pescara. Il 1910 è un anno significativo perché per esempio è stato inaugurato il Cursale, il Teatro Michetti e tante altre strutture, quindi è un anno particolare che dimostra come la città si era messa in movimento dopo l'abbattimento della piazzaforte e si era sviluppato già sul territorio. Ci sono cose che lei ha rivisto poi nella Pescara odierla? Intanto abbiamo il centro storico che è il cuore della città antica ed era il cuore della piazzaforte o meglio era la piazzaforte perché la piazzaforte cingeva un territorio che andava da via Conti di Ruvo a via Coduta del Forte dal ponte d'Annunzio fino alla linea ferroviaria. Ecco, questo era lo spazio della piazzaforte con mura alte 10 metri. È chiaro che lì noi oggi ritroviamo le sensazioni di questa vecchia Pescara. Il centro storico è proprio la continuazione, la continuità di quella stagione. La riconoscibilità nel passato è importante perché rafforza la coesione sociale, cioè di identificarsi intorno a dei segni, a dei simboli, a degli spazi che hanno una storia, una tradizione, rafforza la coesione sociale, più o meno come quando il Pescara va in serie B o in serie A. C'è questa grande partecipazione, questa grande coesione sociale anche da parte di chi non capisce il calcio. Allora diciamo che intorno al centro storico, piuttosto che intorno al sotterraneo del bastione San Vitale o a Rampigno, adesso questa grande scoperta di cui eravamo tutti consapevoli, può sicuramente rafforzare la coesione sociale della città di Pescara che nel 2027 compiera 100 anni. E queste parole ci introducono anche alla pagina dello sport, parliamo di Serie C, obbligo vittoria domani per il Pescara che alle 14.30 se la vedrà all'Adriatico contro il Ponte d'Era. Indisponibili Drudi, Ingrosso e Chiarella, oltre ai nazionali Blanuta e Sorrentino, arbitra Maria Marotta della sezione di Sapri. Servizio. A Ponte d'Era un girone fa il Pescara toccava il fondo e lo faceva anche il tecnico Gaetano Auteri sull'orlo dell'esonero. A distanza di un girone la squadra non senza fatica ha intrapreso un percorso di crescita. Auteri glissa su quei momenti e sulla contestazione del Mannucci ma spiega cosa è cambiato da allora. Intanto siamo figli di una retrocessione. Quando retrocedi qualche colpa c'è. Non è che tutti vogliono i tuoi giocatori che comunque hanno dei diritti, mantengono i contratti, speri sempre che possono far parte del progetto anche chi pensa di andare via e questo purtroppo non avviene e in tanti momenti abbiamo vissuto di questo tipo di speranza. Però poi il risultato finale era sempre diverso quello pratico in campo. Adesso c'è un gruppo consapevole che è stato ulteriormente migliorato nel mercato di gennaio. Siamo in un altro percorso. Secondo me abbiamo tanti margini di crescita in alcuni giocatori che sono arrivati dopo. Non lo so, mi riferisco a Pontissimo, mi riferisco a Cernigoni, mi riferisco a Ieraldi. Però complessivamente il gruppo sta bene. L'obiettivo è il terzo posto e l'eventuale sorpasso alla Cesena che comunque dipende anche dal rendimento dei romagnoli deve avvenire al più presto. Auteri spiega perché. Gli obiettivi sono quelli domenicali. Ora, cinque partite. Secondo me l'ultima conta poco. Chi è avanti sarà avanti all'ultima. Sono queste quattro partite determinanti e soprattutto queste tre prima diciamo della piccola pausa di Pasqua. Nuo forfè per Mirko Drudi. Squalificato in grosso spazio a Ieraldi al centro della difesa in coppia con il Lanes. Zappella e Veroli sulle due fasce. In mezzo, Ok, Pontisso e Pompetti che girano i fianchi di Derisio con Dianbo e Memuschai pronti della panchina. In avanti, con Rauti recuperato ma reduce da alcuni giorni con l'influenza, conferma per il trio Dorsi-Ferrari-Clemenza. Assenti l'infortunato Chiarella e i nazionali Blanuta e Sorrentino quest'ultimo avvicendato da Iacobucci. A parte che Iacobucci e Di Gennaro sono due grandi portieri. Gioca da Iacobucci perché rispetto a Di Gennaro che come sapete ha un infortunio superato ormai abbondantemente ha più continuità di lavoro. Semplicemente per questo non è una bocciatura per nessuno. Sono due grandi portieri, due ottimi professionisti, due ragazzi esemplari veramente però giocherà Iacobucci i motivi li ho appena spiegati. Nel Ponte d'Eras qualificati l'esterno Milani in gol all'andata e il centrale Specie nel 3-5-2 davanti a Melgrati spazio a Shiba, Matteucci e Bacayoko per retta e regoli gli esterni. In mezzo il capitano Caponi tornato 20 giorni fa alla piena attività dopo pesanti strascichi del Covid potrebbe strappare la maglia a uno tra l'ex Foglia, Serena e Barba ex Virtuale Biancazzurro quest'ultimo. Davanti uno tra Mutton e Benedetti al fianco di Magnachi. Il Ponte d'Eras è una squadra che gioca un 3-5-2 è una squadra che fa molta densità che si difende molto bene nella propria metà campo. Lo abbiamo analizzato nelle caratteristiche peculiari come sta in campo. Noi dobbiamo pensare a noi dobbiamo giocare veramente con grande accanimento con grande cattiveria agonistica con grande lucidità perché come ho detto prima adesso è il momento di quagliare ecco, quindi adesso i punti non si possono perdere non li dobbiamo perdere. E' trasferta in Sardegna per il Teramo che domani alle 14.30 sfida l'Olbia per uno scontro diretto tra due formazioni appaiate a quota 37 punti e fuori dalla zona play-out. Guidi non pensa a quello che sarà ma solo a centrare l'unico obiettivo della stagione quello della salvezza. Vediamo il servizio. Il nostro futuro passa dal nostro presente e quindi noi stiamo concentrati su ciò che è oggi su quello che sarà la nostra partita di Olbia e così via. Niente futuro allora solo presente quello che il Teramo ha bisogno abbia prima possibile le sembianze di 41-42 punti per ottenere il traguardo della salvezza. Questo è un gruppo che non ha mai mollato nel senso quando ha ricevuto un grosso cazzotto in faccia ha poi sempre reagito questo è stato un tema una costante ora il nostro obiettivo era quello di trovare continuità a prescindere se le cose andavano bene o male. Anche se e dal presente si torna al passato nel chiuso dello spogliatoio il diavolo nel momento più critico della stagione si era ripromesso di arrivare ad una quota un po' più su ora che di tempo ne è passato quel patto non è più un segreto. Quella chiacchierata famosa che facemmo dentro gli spogliatoi io solo insieme a ragazzi e ragazzi si sono dati come un obiettivo ma risale a dicembre quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica il gruppo si dette come punto di arrivo obiettivo 45 punti è chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati consapevoli del fatto che il nostro obiettivo poi è chiaro è la salvezza se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno però noi dobbiamo raggiungere la salvezza. Vincere ancora stavolta provando a farlo ad Olbia e provando anche a dare quella continuità difensiva che è stata l'anticamera delle vittorie 5 nel girone di ritorno unico Elisir per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play out se noi andiamo avanti con quella che è la nostra filosofia la nostra mentalità vincere due partite e perderne tre vuol dire fare più punti di una che fa 5 pareggi e quindi ci salviamo e questa è stata anche la nostra mentalità a volte abbiamo rischiato di perdere però abbiamo vinto anche di più degli altri non ci sarà pinto semaforo verde invece per Aziosmanovic Bernardotto e Soprano in mezzo a Rigoni e Onnipresente mentre sugli altri c'è ancora da scegliere vista l'abbondanza e i pochi slot a disposizione in tanti meriterebbero di scendere in campo e il fatto di essere passati con due centrocampisti è chiaro che ho penalizzato avendone nuove ho penalizzato Forgione ho penalizzato Viero ho penalizzato De Grazia ho penalizzato Papa Serio o Rossetti o Fiorani non cito a Rigoni perché è chiaro che è il nostro capitano è il nostro leader e quindi è quello che gioca praticamente tra virgolette sempre però è un sistema che avendo tanti centrocampisti qualcuno è per forza di cose penalizzato L'obiettivo è chiaro giocare col DNA consueto ma mettendoci dentro quel pizzico di razionalità che serve per capire che adesso ogni errore potrebbe costare doppio Io non ho mai visto una squadra che ha come obiettivo la salvezza vincere un campionato l'importante è arrivare all'obiettivo poi il come lo discutiamo analizziamo è anche piacevole perché poi si migliora sono punti di vista che non c'è la scienza esasta perché se no tutti faremmo la stessa cosa anticipi di serie D nella giornata di oggi in campo sia la vastese sia il notaresco notaresco che ha pareggiato a piedi montematese per 1-1 al termine di una partita piuttosto sofferta che era iniziata male per la squadra di Epifani che era andata sotto per effetto di questo colpo di testa di Galesio l'attaccante argentino del Matese al dodicesimo minuto su cross di Setola in pieno recupero al novantunesimo il pareggio del notaresco con il solito Maio che raccoglie il traversone di Blando e mette dentro dalla corta distanza 1-1 a piedi montematese ed è andata peggio alla vastese battuta in casa dal Tolentino per 2-0 vediamo il servizio di Jacopo Forcella Ritorno dopo la sosta e Amaro per una vastese opaca e che cade al cospetto del Tolentino gara non bella e nella quale i marchigiani sfruttano un episodio nel primo e uno nel finale per portarsi a casa l'intera posta in paglio al primo e quasi unico squillo minuto 14 della frazione iniziale il Tolentino passa il piazzato di Severini sul primo palo vede la risposta di Di Rienzo miracoloso con l'osiglio del palo anche sulla ribattuta sottomisura di Zammarchi nulla può tuttavia sul tap in a quel punto semplicissimo di Padovani che porta i cremisi in vantaggio il tutto in 45 minuti durante i quali la vastese non trova quegli spiragli che servirebbero per bucare la retroguardia ospite in leggere ambasce solo al 45esimo quando ceccacci pennella per la testa di Di Filippo la cui girata da buona posizione è alta da Derio lascia negli spogliatoi Sansone per Monza padroni di casa più aggressivi che protestano prima per un contatto su Di Filippo poi per un possibile tocco di mani in area l'ingresso di Alonzi per Pierpaoli ha il compito di dare ulteriore sostanza alla finalizzazione della manovra aragonese i cui segnali però sono quelli lanciati dalla girata di Stivaletta contrastato al momento della battuta verso Bucosse la spinta bianco-rossa tuttavia non è mai continua e ordinata è fatta prevalentemente di fiammate come il cross di Ceccacci e la battuta imprecisa di Alonzi sotto misura il Tolentino si chiude e riparte Cicconetti entrato per Zammarchi tenta la via della rete centralmente l'opportunità ghiotta l'avrebbe Alessandro a 8 dal 90esimo il rilancio di Altobelli lo pesca in buona posizione ma il lobbo è fiacco e Bucosse può chiudere la sera cinesca e il finale se possibile basso di Severini trova la deviazione furtuita di Allegra nella propria porta per 1-0-2 che penalizza eccessivamente una vastese battuta e che dovrà riordinare le idee in vista della trasferta di San Benedetto di mercoledì pomeriggio Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it la nostra informazione torna con il TG delle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione